Bentornati con le consuite previsioni a cura di Meteo One. Un imponente antiriciclone staziona da giorni tra Scandinavia e Russia Europea. Sul suo bordo più orientale scorrerà aria fredda che attraverso i Balcani covoglierà masse d'aria più fredde verso le regioni meridionali del versante adriatico. Ciò determinerà instabilità a carattere spasso con fenomeni localmente forti. Le temperature risulteranno fresche tuttavia ancora nella media del periodo. Ma andiamo ora a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per mercoledì 27 settembre. Al mattino cielo poco nuvoloso o nuvoloso ovunque con più sole solamente sul Salento e lungo le coste adriatiche. Possibili rovesci sul Gargano. Nel pomeriggio invece sviluppo di locali rovesci o temporali sul Potentino, Morge, Interne Lucane, Tarantino e sul Salento Ionico. In serata ultimi fenomeni sulle zone interne tra Puglia e Basilicata, ma risulteranno in esaurimento. Per quanto riguarda le temperature saranno stazionarie o in leggero rialzo nei valori massimi. Venti deboli nord-orientali con locali rinforzi soprattutto lungo le coste adriatiche. Per quanto riguarda i mari, mosso l'Adriatico e il Canal d'Otronto. Poco mosso l'Oionio. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Oggi ringraziamo il nostro telespettatore Alessandro Bavaro per questa meravigliosa alba che riscalda alle prime luci due pescatori solitari dinanzi la costa di Bari. Se volete inviare la vostra foto del giorno contattateci al numero whatsapp e all'email che vedete in sopra e pressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.